Come dicevamo, tra qualche giorno è Tubi Shvat, poi se Dio vuole ne parliamo più in dettaglio di Tubi Shvat, ma è anche il compleanno di Rabbi Nathan. Rabbi Nathan era l'allievo numero uno di Rabbi Nachman, per chi non lo sa, e io non lo so, ci sono un po' di giorni che ho sentito questo shiur del Rav Erez Moshe Doron, e mi è entrato così in testa che ancora non riesco a cucinarlo bene, però mi è piaciuto il concetto che diceva appunto di Rabbi Nathan, quando è andato Rabbi Nathan è quando ha incontrato Rabbi Nachman la prima volta, per chi non sa che è Rabbi Nathan, credo che online abbiamo qualche storia, qualche video di quando lui ha incontrato Rabbi Nachman la prima volta, come si è avvicinato e tutto, però era un grande, un grande Talmid Chacham, vuol dire che era un grande studioso, e cercava un botto come avvicinarsi a Dio, come, eh anche lì sarebbe da parlare per ore, non voglio, non voglio sdeviare dal concetto che, di cui volevo parlare, ma solo per dire che Rabbi Nathan prima di arrivare da Rabbi Nachman era l'allievo di Rabilevitz Hakmi Bardijov, che è uno dei più grandi chassidim che sia mai esistito anche lui, e Rabbi Nathan appunto diceva, ha ricercato, ha dovuto combattere con la famiglia, perché la famiglia era proprio contro la chassidut, in modo molto duro, e lui cercava come avvicinarsi a Dio, piangeva di notte, non riusciva proprio a trovare, Rabbi Nachman alla fine ha detto di Rabbi Nachman che se non fosse per lui non sarebbe rimasto neanche una foglia degli insegnamenti di Rabbi Nachman, quindi noi tutto dobbiamo, degli insegnamenti di Rabbi Nachman li dobbiamo a Rabbi Nathan, e in più, se Dio vuole, poi ne parliamo piano piano, ha lasciato una marea di torotta anche su, tra cui dei libri interi che si chiama Likutea, la Chod, dove ne parla, però, dove parla appunto, apre gli insegnamenti di Rabbi Nachman, ogni volta noi ne parliamo nelle lezioni, ma quello che volevo dire è che qualche giorno dopo che ha incontrato Rabbi Nachman, Rabbi Nachman ha iniziato a camminare con lui, camminava per lui, hanno fatto una passeggiata, e Rabbi Nachman ha detto a Rabbi Nachman una frase del genere, gli ha detto quanto è buono aprire il cuore e parlare con Dio come parli con un buon amico, con un amico vero, così gli ha detto, e Rabbi Nachman di questo concetto ha detto wow, addirittura l'ha scritto in una delle lettere, ha detto wow, ho incontrato Rabbi Nachman, mi ha detto questa cosa qui, dice, ma è una bomba, ma mi ha detto che parlare con Dio come un buon amico è così bisogna parlare con Dio, gli ha cambiato la vita, va bene, è un buon concetto, puoi dire che, ok, un buon concetto, però addirittura dire come dice Rabbi Nachman che ha trovato, ne parla come si ha trovato il segreto della vita, come si ha trovato il significato della vita, l'ingrediente di come superare questo mondo nel modo migliore, la domanda è appunto come Rabbi Nachman che era così un grande studioso, che era un ricercatore, che era un vero ricercatore di Dio, com'è possibile che era così stupito, così preso da questo fatto che si può parlare con Dio, come si parla con un amico, come si parla con un vero amico. Moshe Restron diceva, ma non so, l'ha spiegato in questo modo, che ovviamente noi non possiamo capire veramente chi Rabbi Nachman, cosa l'ha colpito nel cuore a Rabbi Nachman, però possiamo provare ad analizzare questo concetto, che in pratica durante gli anni della vita umana in generale, del mondo, dell'esistenza, fino ai giorni d'oggi, il concetto che noi concepiamo di Dio, almeno nella Torah e anche fuori dalla Torah, però nella Torah c'è scritto che Dio è avvinum al kenum, scusate, avvinum vuol dire nostro padre e nostro re, o a volte dicono nostro re e nostro padre, comunque a volte nostro padre, a volte nostro re, e quindi è sia il re che il papà, giusto? Quindi vuol dire che comunque è una figura che comanda, che è re perché regna, quindi vuol dire che governa, che comanda, che dirige, che gestisce tutto quello che gira intorno a noi. Noi siamo i suoi figli, siamo i suoi servi comunque in una posizione che noi concepiamo con una concezione più bassa, giusto? E invece quello che abbiamo qua adesso, quello che ci ha insegnato Rabbi Nachman, è qualcosa di totalmente nuovo, è qualcosa che ci viene a dire che Dio è un amico, che è un amico, vuol dire che lo puoi guardare alla stessa altezza degli occhi, non come un figlio guarda al padre, o come un suddito o uno schiavo guarda al re, ma vedi Dio ha la stessa linea d'onda, ovviamente non siamo la stessa linea d'onda, perché Dio è Dio e noi siamo quello che siamo. Quello che ha rinnovato Rabbi Nachman è che ci ha insegnato che il rapporto con Dio è un rapporto come con un vero amico, e noi abbiamo bisogno di questo concetto, in particolare nella generazione prima dell'arrivo del Mashiach, vuol dire prima della fine dei tempi, anche in particolare quando siamo in un periodo così duro, Dio è chiamato Yedid Nefesh, vuol dire l'amico dell'anima, è chiamato l'amico dell'anima, non riuscivamo a capire cosa vuol dire chiamare Dio l'amico dell'anima, e invece dobbiamo sapere che è esattamente quello che possiamo parlare con Dio come con un amico, perché il male, che è lo Yetzirah, l'istinto al male, abbiamo detto, il rabbo Ferreros dice sempre che è il primo Breslev che è mai successo, perché il rabbi Nachman, che è Breslev, dice che non bisogna mai arrendersi, e il male, l'istinto al male non si arrende mai, ogni volta cerca come allontanarci da Dio in un modo o nell'altro, e quindi non staccandosi mai, ha preso questo concetto che ovviamente Dio è il nostro re, il nostro condottiero, il nostro comandante, il nostro dirigente, il nostro padre, eccetera, ok? È ovvio che siamo i suoi schiavi, è vero, è vero, però il male ha preso questo concetto, e l'ha trasformato, invece di essere un concetto che ci deve aiutare, l'ha preso e ce l'ha risbattuto in faccia, ci vuole abbattere con questo concetto, ha preso il concetto come è successo in tante situazioni, che si prende il concetto dello tzaddiki, che è il giusto, che c'è in ogni generazione, e l'istinto al male cosa ha fatto? Ha preso questo concetto, l'ha vestito su qualcuno che non era il vero tzaddiki, e adesso tutti, nessuno ci crede, faccio un esempio, senza andare in altre religioni, nella nostra religione è successo, prima del Baal Centro era successo di Shabtai Zvi, senza rabbia, Shabtai Zvi era uno che diceva che lui era il Messia, e un botto di persone gli sono andate dietro, anche grandi rabbini e tutto, e poi si è rivelato che non era il Messia, e da lì c'è scritto che dicono i nostri saggi che ancora oggi, sono passati 350 anni, una cosa del genere, ancora oggi è difficile per le persone di accettare il Messia, o il vero tzaddiki, il concetto di vero tzaddiki, e per quello che andavano le persone contro il Baal Centro, perché dicevano, ah tu sei il nuovo Shabtai Zvi, gli dicevano, sia mai. Quindi cosa fa? Il male prende un concetto che vale una marea, che è super sacro, che è super valoroso, non so come si dice in italiano, e lo sporca. Nel momento in cui lo sporca non lo vogliamo più, ci allontaniamo da quel concetto. Questo un po' non so se sono stato chiaro in italiano, per spiegare, ma anche in altre lingue sono come parlo. Il punto è che noi possiamo vedere che il mondo è pieno di direttori, è pieno di capi, di re, politici, o influencer, persone come si dice che sono il capo della polizia, il direttore dell'ospedale, il giudice, o una marea di posizioni. Almeno in Israele c'è molto questa cosa che chi va a lavorare, cosa vuoi fare? No, vuoi fare il direttore. Di cosa, no? Il direttore non è che funziona così. C'è molta sta roba qui che le persone vogliono dirigere, vogliono essere il capo, perché ce ne sono tanti. Perché? Perché c'è questo concetto del direttore che non è come il vero direttore dovrebbe essere, non è come il vero re dovrebbe essere, o il vero presidente dovrebbe essere, che sai, arriva il suo lavoro è innalzare le persone, o innalzare chi è sotto di lui. Il lavoro del vero direttore non è dirigere, dire, oh, stai zitto, cosa fai? No, deve innalzare tutti, in modo che tutta l'azienda può andare come si deve. Il vero re deve innalzare i suoi sudditi, non li deve abbattere per i suoi piaceri o per arrivare ai suoi scopi. E purtroppo questo è quello che succede nella nostra generazione, non nella nostra generazione, da generazione e generazione, che chi è in alto usa il suo potere, la sua forza governativa, per appunto i suoi scopi, e non per il vero scopo, che è quello di innalzare gli altri. Quindi cosa succede? Che in automatico quando noi ci dicono questo è il direttore, questo è il capo, questo è, subito ci allontaniamo. Cosa vuol dire? Non vogliamo avere un rapporto, non cerchiamo un rapporto con una persona del genere, a meno che non sia un rapporto di favore, giusto? Oppure che devo anche comportarmi bene davanti a lui, mi fermo a un poliziotto che nei miei confronti ha più potere, allora mi devo comportare bene, va bene, mi ha fermato, mi ha fermato, non me lo vado a cercare, non vado in giro a cercare il poliziotto, a dire ciao come stai, guarda voglio un rapporto con te, no perché? Perché la concezione che ho io di qualcuno che è sopra di me, che mi comanda, è una concezione che a me non va bene, è un concetto che a me, io non voglio starci vicino, se mi ha fermato va bene, mi fermo, mi comporto come si deve, o così è uguale, con Dio, se mi acchiappa Dio, o mi giudica Dio, va bene, mi faccio giudicare, va bene, io andare a cercare un rapporto con lui, è come dire voglio andare a cercare un rapporto e mandare i cuoricini a un giudice, non lo faccio, non lo faccio, o al direttore, meno ho bisogno del contatto con lui, meglio sto, e questo risultato che ha fatto l'istinto al male, che ha innalzato tutti questi falsi, falsi direttori, una volta c'era un adesivo bello che diceva, Bali Manik Zadik, vuol dire, ho voglia di avere un condottiero che sia un giusto, mi piacerebbe avere un politico che è un giusto, umile, purtroppo te lo dicono anche, lo dicono anche i politici, se non sei uno che sa fare le combine, non arriverai mai in alto nella politica, non prendono quello che è bravo, onesto, cose del genere, no, cercano chi sa fare determinati tipi di lavoro, ovviamente, per noi ovvio, però cosa succede? Che in automatico ci allontana, sia ci allontana ovviamente da questo tipo di persone, quindi anche queste persone sono disconnesse totalmente dalla realtà in cui viviamo, ma in più anche ci allontana da Dio, perché non vogliamo, anche lui non vogliamo, non vogliamo, perché crediamo che anche la stessa cosa succede, che Dio ci guarda, molte volte uno dice, ah io non voglio pregare perché ieri ho rubato, ieri ho fatto questo, e non è così, ovviamente non bisogna rubare, non è permesso rubare, non è permesso uccidere, ovvio, non è una cosa che ti blocca dall'avvicinarti a lui, ok, come abbiamo detto, se uno non ha scelta, questo è quello che crediamo, non hai scelta, ma è bella lì, ovviamente ci sono stati dei grandi giusti, non è tutto così, ci sono stati dei grandi giusti che sapevano mettere insieme il fatto di papà e re, cioè papà con amore, onore e re, che sei il suo servo ma ti vuole bene, ti vuole innalzare, ci sono dei grandi giusti che lo sapevano fare, ma nella nostra generazione, man mano che scendono le generazioni, più va avanti il tempo, più scendono le generazioni, addirittura il concetto di padre, non abbiamo più il concetto che avevamo una volta, di timore, amore che ti innalza, oggi ancora oggi, chi ha, ci sono molte persone che i padri, non sono quell'esempio di onore, di amore, mi dispiace, però la realtà è quella, i nostri genitori, anche loro, anche quel concetto è stato sporcato, anche quel valore, il valore di genitore, anche quello è stato sporcato, in diversi modi, ok? Quindi il punto è che, dobbiamo sapere che Dio è come un amico, vuol dire che è sempre vicino a noi, perché? Perché l'amico non ti giudica, l'amico gli parli a quattro occhi, l'amico ha, anche se hai peccato, non viene a giudicarti, sa che sei caduto, ok, però è tuo amico, ti vuole bene, sta con te, la stessa cosa è Dio, il primo che ha iniziato a insegnarci questa cosa è il balcempto, ritorno a dire, non è che il balcempto ha detto, ah, fai i peccati e va bene, no, ma anche se sei caduto in quei posti, non dimenticarti che Dio è con te, abbiamo avuto, grazie a Dio, esperienze negli anni di tante persone che credevano, no, Dio, se pecco non mi guarda, ci sono persone che dicono, ah, ieri ho parlato male con mia madre, piuttosto che ho trattato male mia moglie, allora oggi non metto, non prego neanche, perché tanto Dio non mi ascolta, no, non è così, non è così, non è così, veramente non è così, così dicono i nostri più grandi, sa di chi, Dio, ti ascolta comunque perché è un tuo amico, ti capisce, lo sai cosa sta passando, lo sai cosa stai passando, possibile che si sarebbe arrabbiato anche lui se era nel tuo corpo, così, lo sa, o anche se lui non si sarebbe arrabbiato, ma ti capisce, perché è un tuo amico, il, il, così si dice, un amico è pieno di misericordia, è pieno di, 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 di amore, è pieno di non giudicare, c'è sempre, c'è una, una cosa che è scritta nella Torah, stavo guardando qua per, chi vuole vederlo al verso numero 38, parla di Iudah che è sceso, c'è scritto in quel periodo, Iudah scese via dai suoi fratelli, lì si voltò verso un uomo di Adulam, Adulam era un posto, che si chiamava Chirah, e Chirah era l'amico di Iudah, addirittura c'è scritto nel Midrash, dicono che era proprio, è lui, è scritto nella Torah, la Torah perché ce lo, ce lo nomina, non era uno dei figli di Iacov, cosa ci viene a dire che aveva questo amico qua, che si chiama Chirah, era l'amico di Iudah, e Chirah, Chirah in ebraico, Chirah, il Adulamid, che veniva da Adulam, a questo posto che si chiamava Adulam, addirittura era quello che, poi Iudah è andato a vivere lì, ha sposato una donna di là, o ha dato ai suoi figli, scusa, ha dato ai suoi figli una donna di lì, poi ha preso Tamar, era coinvolto in tutta la storia, addirittura anche quando è successa la storia che lui è andato, ha avuto rapporto con Tamar, e tutto gli ha dato l'anello giusto, gli ha detto poi torno, ti do un capretto, ha mandato Chirah, l'ha mandato a dare il capretto, l'amico di Iudah, e lei non c'era, poi è saltato fuori, che era la sua donna, ha detto ma come non c'è, pensavo fosse una donna lì del santuario, invece poi non era così, e ha detto guarda, dobbiamo fare qualcosa per non avere vergogna, e lì non c'è scritto che Chirah, l'amico di Iudah, gli ha detto come per avere vergogna, io cosa c'entro, io gli avrei detto, io vergogna, tu devi avere vergogna, io cosa c'entro, perché io ho fatto qualcosa, ma hai mandato lì e basta, e sono andato lì, non c'entro niente, non abbiamo vergogna, non gli ha detto così, ci vuole insegnare la Torah, anche in questo piccolo dettaglio, che un amico non ti giudica, un amico è con te, è un vero amico, è con te, come diciamo noi in italiano, chi trova un amico trova un tesoro, giusto? questo amico, ci viene a insegnare che l'amico, in ebraico, haver viene dalla parola chibur, vuol dire essere uniti, cosa vuol dire essere unito? Eh, sono unito, sono con te, adesso tu cadi, io cado con te, tu sali, salgo con te, questo lavoro che deve fare l'amico, l'amico deve essere sempre a fianco a te, ti chiama a luna di notte, un tuo amico ti dice, guarda ho un problema, viene a casa mia fratello, ma sei fuori, eh, ma ho fatto un casino, lascia stare il casino, dopo me lo spieghi, intanto vieni a casa mia, stai qua, hai da dormire, hai da mangiare, non è un problema, questo è un amico, un amico non ti giudica, prima di tutto vieni qua, mangia, bevi, stai tranquillo, prima di tutto, io sono con te, non sei solo, la prima cosa sappi che non sei solo, e poi andiamo avanti, vediamo come risolvere ogni situazione, ma io sono con te, questo è un amico, e questa è la bomba atomica che ha capito Rabinata, ognuno di noi vorrebbe un amico del genere, chi ha i figli sa che la cosa più bella per un figlio, e augurargli che abbia un amico, ma ancora più bello, è quello che ci ha insegnato Rabinata, anche ha imparato da Rabinahman, ci ha insegnato Rabinahman, noi l'abbiamo concepito tramite Rabinahman, parla con Dio come il tuo miglior amico, che Dio sia il tuo miglior amico, Dio è sempre disponibile per te, hai voglia, adesso alza la testa e dì, vai, ti siedi e inizi a dire, papà, come va? Tutto bene? Guarda, sai oggi ho avuto un casino, oggi ho parlato male di quello, non volevo, veramente non volevo parlare, però lo sai, mi ha parlato così, iniziare a parlare come un amico, nella tua lingua, quando riesci, ti siedi, non ti sentire in colpa, non ti ho parlato per tre giorni, ognuno ha degli amici che magari non sente per un anno, poi lo chiama, come se fosse successo, come se non fosse passato un giorno, tutto a posto, perché dal modo in cui parli, ti riconnetti subito, ha già capito della tua fibrazione, che non ce l'hai con lui, che non è che non gli vuoi bene, è l'incasinato, la vita è, così, ognuno di noi può parlare con Dio come un amico, e non ti giudica, non dobbiamo arrivare da lui solo quando siamo perfetti, e non dobbiamo arrivare davanti a lui, con la vergogna, ovvio che è a livello alto e tutto, però Rabbi Nachman ci insegna che è così importante parlare con Dio come un amico, ed aprire il cuore davanti a lui come un amico, poi il resto del giorno, se vuoi parlare come un re non c'è problema, lo vediamo per esempio il re David, tra l'altro abbiamo messo su Amazon un libro che si chiama Re David, giusto per dirlo, e chi vuol vederlo, sono storie, non è, cioè bello, un bel libro di storie per chi vuol vederlo, si chiama Re David, e poi non mi ricordo altro, se Dio vuole magari mettiamo poi dei capitoli sul canale, aveva il re David, c'è scritto che aveva uno dei lavori, aveva ovviamente il ministro della guerra, aveva il ministro del militare, quello dell'istruzione, aveva avuto una marea di ministri, aveva anche uno degli impieghi, era amico del re, ho chiesto ai miei famigli, ma, chiedo ma, cos'è questo lavoro? E la risposta dei commentatori dicono, ma può essere che David non aveva bisogno di un amico, ma il re non ha bisogno di un amico, il re ha bisogno anche lui di un amico, anche il re ha bisogno dell'amico, ognuno ha bisogno di un amico, l'amico è un concetto, per tornare a quello che dicevamo prima, che non è stato sporcato come gli altri concetti, gli altri concetti sono stati sporcati, come abbiamo detto bene, nella famiglia, i rapporti tra uomo e donna, il rapporto in senso proprio di coppia, il rapporto con Dio, il rapporto con i dottori, arrivi dal dottore, non credi più neanche al dottore, una volta mi ricordo mia nonna, quando parlava del dottore, era sacro il dottore, l'ha detto il dottore, non crediamo ai giudici, non crediamo alle notizie, le notizie, facciamo vedere uno, c'è gente che diceva, quello che è successo il 7 ottobre non è vero, ma come non è vero, ha messo il telecamere, no, è la propaganda israeliana, ma come, non è vero, anche quello che vedi non è vero, non crediamo più a niente, è tutto stato sporcato, è rimasto questo concetto dell'amicizia, l'amicizia, se vedi sia nei film, le Avdil, proprio a differenza, stiamo parlando adesso di cose, super sacre, però anche i film, a differenza, i film, anche dei bambini, degli eroi, super eroi, hanno sempre un amico, l'eroe ha l'amico, e quell'amico molte volte lo salva, perché è ancora, l'amicizia non so come mai, ci sono diversi motivi, ma ovviamente non li so io come mai, però l'amicizia è rimasta ancora pulita, è rimasta ancora pura, allora Rabbi Nachoan cosa ci insegna? Prendi quel concetto che è ancora rimasto pulito e puro, e legalo a Dio, rendilo parallelo con Dio, connettiti grazie a questa cosa pulita e pura con Dio, ovviamente bisogna connetterci anche, nello stesso modo anche con tua moglie, o con tuo marito, e avere un rapporto di amicizia, ovvio anche quello, però un'altra parentesi che si di buona ne parliamo, quello che ha insegnato Rabbi Nachoan, ha detto parla con Dio come con un amico, non devi essere uno scrittore, come abbiamo detto, non devi essere un cantante, non devi essere un rabbino, non devi avere le peode, non devi avere la barba, non devi aver studiato 70 pagine di Gmarà, no, parla con Lui come un amico, e da lì parte tutto il concetto dell'idbodedut, che se Dio vuole ne parliamo in questi giorni, c'è una Torah che si chiama Kafheibi, l'ikutetiniana, magari parliamo un po' del fatto, del concetto di parlare con Dio, che prima di arrivare a quello, la bomba è quello che ci ha insegnato Rabbi Nachman, che possiamo parlare con Lui come un amico, a quattro occhi, sullo stesso livello, se Dio vuole che riusciamo a farlo già da oggi, se no domani possiamo farlo.